Sono Federico Mai. Padre Cacciapuoti mi aspetta. L'unica speranza è che Benedetta confesse il patto con Satana. Ma Benedetta non confesse. Domani c'è la prova del fuoco. Ma è bello. Dovete solo dire in nomine Patris et Filet. Et Spiritus Sancti. Amen. Tu che frequenti il mondo dei vivi dammi un polso della situazione. Vogliono tutti la fattura. Anche i contadini vogliono la fattura. Fermare il tempo è impossibile. Un vampiro. È un vivo o un morto? Allora la bruciarete. Cosa ti importa se la bruciano? Ho paura della sua vendetta. Vi chine ti Benedetta.